Oggi inizia il campionato di Serie A e questa sera alle 18.30 l'Inter affronterà il Genoa in trasferta. Questa sarà la prima partita per i campioni in carica per l'Inter, riduce della vittoria dello scudetto dell'anno scorso. E vorrei chiederti la tua opinione, secondo te come finirà questa partita e quale giocatore sarà determinante in questo match. Scrivi tutte le tue opinioni, il tuo pronostico nei commenti, ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube per non perderti i prossimi video in uscita. E noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!